Noi giustamente ci affidiamo ai nostri dirigenti, ci affidiamo a un Bigon, ci affidiamo a un Benitez, ci affidiamo a quelle persone che giustamente fanno delle analisi di mercato e vogliono portare un po' di giovani sicuramente alle dipendenze del calcio Napoli. Quindi secondo me lui, David Lopez, è un grandissimo giocatore, un bravo ragazzo e quindi secondo me, anche per dare una risposta prima al suo collega, è un giocatore con ottime qualità. È un giocatore che secondo me si farà vedere molto, anzi secondo me sarà un grande titolare e fino a prova contraria, delusi o non delusi, a noi dei tifosi ce li può fregare e non fregare perché fino a prova contraria, a fine anno, abbiamo sempre avuto degli ottimi risultati.